Sindaco, emergenza coronavirus, com'è la situazione all'Uni? Diciamo che il numero delle persone sottoposte a quarantena o per contatto stretto o perché di messe è sensibilmente diminuito, ad oggi ammonta a 9 persone, pur con la frammentarietà dei dati che ci vengono trasmessi. Il dato sia delle persone ricoverate che delle persone sottoposte a quarantena è in calo. Il nostro paziente numero uno è tornato a casa, abbiamo pagato un tributo pesante anche per quanto riguarda due medici che sono stati uno ricoverato e uno a casa in quarantena che si sono, grazie a Dio, ripresi. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista anche per noi il picco è passato e la fase è monitorata ed è sotto controllo. Ecco, invece per quanto riguarda la consegna delle mascherine c'è qualche problema. Mi risulta che ne siano state consegnate poche e da singhiozzo. Noi dopo un periodo di mancanza di rifornimento comune praticamente a tutte le amministrazioni, ne abbiamo recuperate un po' da produttori locali, un po' tramite canali di rifornimento istituzionali, ne abbiamo distribuite un numero considerevole, alcune migliaia nei negozi affinché a loro volta le distribuiscano ai clienti che ne sono sprovvisti e poi le abbiamo date ai ragazzi della protezione civile che stanno facendo una cosa egregia e anche ai vigili urbani che a richiesta le distribuiscono. Ovviamente la preoccupazione è la preoccupazione comune a tutti gli amministratori d'Italia ed Europa e cioè che questa situazione abbia a terminare presto affinché le attività economiche possano riprendere perché altrimenti da qui a poco l'emergenza vera sarà un'emergenza economica. Io sono consapevole della gravità della situazione, abbiamo perso anche noi, abbiamo pagato un tributo, abbiamo perso il mio suocero, quindi il nostro congiunto sappiamo che è una cosa questa concreta, reale che serpeggia fra noi con la quale dobbiamo fare i conti.